Le advancing therapeutic and medical product sono terapie avanzate che possono portare alla cura di diverse patologie ad oggi incurabili. Sono terapie innovative che sicuramente necessitano di tecnologie nuove, di tecnologie anche costose, ma che comunque è importante sviluppare e portare avanti. Oggi a Roma viene presentato il quinto report della TMP Forum, che è il primo centro studio italiano che dal 2017 analizza a 360 gradi lo stato dell'arte e le potenzialità delle terapie avanzate come frontiere di cura. Il quinto report della TMP Forum fondamentalmente ha validato un modello di analisi e di lavoro per cui parte dall'analisi della ricerca sulle terapie avanzate per arrivare fino al nostro paese, confrontando quelli che sono anche i livelli di accettazione delle terapie avanzate nei diversi paesi. È importante capire cosa succede anche negli altri paesi per vedere di fare meglio. Di fatto noi abbiamo visto che la spesa di terapie avanzate nel 2021, aggregando i dati della report Osmed, è pari a 74 milioni di euro. Il nostro modello è stimato per il 2021 tra i 50 e i 100 milioni di euro e quindi è stata una conferma della solidità del nostro modello, che comunque parte da dati oggettivi, dai dati disponibili, pubblicati e tutto per continuamente aggiornarsi e vedere. Sicuramente la sfida oggi è quella di passare da malattie rare, ultra rare, di pochi decine di pazienti, di centina di pazienti a malattie leggermente più diffuse come l'emofilia e il mio nome multiplo, che saranno le sfide degli anni a venire e richiederanno anche un'ulteriore modifica di quanto è stato appreso fino ad oggi, sicuramente nell'ottica di pensare questo come non una spesa corrente one shot, ma come un investimento da sparmare negli anni. Oggi è stata una bellissima occasione per poter discutere i risultati dell'ultimo report della TPI Forum, che ha affrontato diverse tematiche associate alle terapie avanzate. la tematica dello sviluppo clinico, abbiamo effettuato uno studio, un'analisi degli studi clinici attualmente in essere per terapie avanzate, evidenziando i principali target che sono ancora l'oncologia e l'oncomatologia e il contributo che in questo momento per oltre il 60% dà nelle imprese come sponsor o co-sponsor dell'attività di sviluppo clinico. Abbiamo analizzato il loro accesso dal punto di vista registrativo, quindi la situazione a livello europeo dal punto di vista del rimborso sui principali paesi europei che ha evidenziato una situazione abbastanza variabile, ma una tendenza ad una omogenizzazione dei processi di accesso che in futuro, almeno dal punto di vista della valutazione, verrà certamente favorita dal regolamento HTA che proprio sulle terapie avanzate e sui farmaci e indicazione oncologica troverà la sua prima applicazione nel 2025 ed abbiamo analizzato la situazione italiana a livello nazionale e a livello regionale e locale. Abbiamo affrontato poi il tema dell'HTA applicato alle terapie avanzate ed abbiamo infine analizzato quali sono le prospettive dal punto di vista economico-finanziario stimando sulla base delle pipeline esistenti quello che sarà l'impatto finanziario delle terapie avanzate oggi in fase di ultima sviluppo clinico e di fatto in fase di valutazione per l'approvazione. Credo che siano strumenti estremamente utili per un aspetto che è fondamentale, quello di cercare il più possibile di programmare, di anticipare le problematiche, ma è stata soprattutto un'occasione per discutere queste evidenze con tutti i soggetti e portatori di interessi interessati dai soggetti regolatori ai soggetti che poi devono fare valutazione per l'accesso, ai soggetti che pagano per i farmaci, all'industria, alle associazioni dei pazienti, ai clinici e a tutti coloro come i farmacisti ospedalieri che poi gestiscono a livello locale queste terapie. Grazie.